Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà ancora pressione atmosferica bassa sul Mediterraneo centrale, ci attende quindi una giornata autunnale. Le nuvole infatti saranno protagoniste da nord a sud ma soprattutto nelle regioni centro-meridionali dove gli annuvolamenti saranno più compatti e più insistenti e dove porteranno anche precipitazioni diffuse. Vediamo la previsione delle piogge sull'Italia, come vedete al centro-sud pioverà in maniera piuttosto marcata con anche dei temporali sul versante tirrenico quindi attenzione, precipitazioni localmente intense, meglio al nord anche se poi a fine giornata qualche pioggia arriva su Liguria e Basso Piemonte. Quindi in definitiva giornata dicevamo autunnale, bene o male in tutta Italia, qualche scheritta è prevista sulla fascia alpina prealpina ma per il resto tante nuvole al centro-sud a piogge diffuse e vi segnalo anche per il nord Italia in pienura padana al mattino presto qualche foschia densa. Con questo è tutto, per i dettagli sulle singole località potete scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.